Questa mattina ci occupiamo di argomenti che riguardano un po' l'ambiente, l'inquinamento eccetera e sono tre argomenti ma cominciamo dal primo, il mio ospite di questa mattina è il dottor Ruggero Ridolfi, oncologo endocrinologo, poi fra l'altro è stato anche per anni all'IRST di Meldola come responsabile immunoterapia. Dottore grazie di essere venuto tanto per cominciare. Cominciamo con la vicenda che risale, mi diceva poco prima di andare in registrazione, la vicenda della cava di Vecchiazzano, la strada che andrebbe su verso la collina eccetera, lei mi ha dato molto materiale, io mi sono anche un po' perso, devo dire la verità perché era tanto. Ci faccio un po' la storia velocemente. La storia io la racconto per come poi l'ho vissuta io, non sono addentro proprio a tutte le dinamiche. È un progetto nato negli anni 2000, quindi è un progetto vecchio di 20 anni, quando Vecchiazzano sicuramente aveva molti meno abitanti, per capirci anche le tempistiche che non era ancora stato neanche trasferito all'ospedale al Pier Antoni, perché è stato trasferito negli anni 2004-2005 mi sembra. Quindi diciamo in un'epoca ormai abbastanza lontana. In pratica c'è una cava che era già stata utilizzata in passato. Di ghiaia e sabbia, vero? Di ghiaia e sabbia, anche qui adesso io non ho i termini esatti, parlo di ghiaia e sabbia forse non sono i termini esatti, però materiale che comunque credo, mi dicono, è apprezzato per le costruzioni, per le massicciate, insomma per i lavori. E quindi siccome pare che ce ne sia ancora da estrarre, nell'angolo fra la via Beclezio e la via Mangiella, quindi siamo nel versante verso San Lorenzo in Oceto, in quell'angolo lì dovrebbero scavare e farla cava. Quando è partita questa ipotesi, credo che i proprietari del terreno, chi doveva eseguire i lavori, abbia ottenuto dal comune di far costruire però una strada agibile per poi trasportare questo materiale. Quindi per la viabilità dei camion. Per i camion in entrata e in uscita che almeno allora dovevano andare, mi pare anche adesso, però anche qui non sono sicurissimo, alla lavorazione di inerti che è nella cava di Magliano. Sì. Quindi fare un percorso piuttosto lungo per arrivare a Magliano e la cava era funzionale anche diciamo al quartiere di Vecchiazzano, era richiesta anche dal quartiere di Vecchiazzano per evitare che i camion passassero dentro Vecchiazzano e farli diciamo girare al di fuori da via del Partigiano. Perché anche già adesso che si è allargata molto il Vecchiazzano, moltissimo, voglio dire c'è già abbastanza traffico anche adesso. C'è già abbastanza traffico. Sì, appunto. Infatti poi ovviamente con le tempistiche eccetera si è andati avanti e diciamo c'è stato un impulso per cercare di iniziare questi lavori negli anni 2008-2009. era in scadenza la giunta Masini. Sì. E in quel periodo lì, io ho cominciato a interessarmi in quel periodo lì perché con altri, io abito più in su, non sono diciamo a ridosso di dove ci sarà la strada, quindi la casa mia non la vedrei neanche insomma. però è una strada, intanto per capirci anche per chi ci ascolta, non è la tangenziale, il proseguo della tangenziale di Forlì, cioè quella che dovrebbe congiungere la tangenziale che poi è stata costruita dal cimitero di San Martino in pratica e che dovrebbe andare a finire alla rotonda ultima di Vecchiazzano per l'ospedale, passando sotto le case di Via dell'Appennino, un ponte sopra il fiume, poi sotto le case ancora di Vecchiazzano, quindi un'opera che dovrà essere fatta ma che comunque non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando adesso. Qui si parla di una strada per camion, quindi fatta per i camion che escono dalla casa, che uscendo da Via Mangiella attraversa la via Tomba e la taglia a raso, perché non è previsto né un sottopasso né un sottopasso, taglia ancora i campi, diciamo nel primo momento della collina, nel primo risalito della collina, taglia Via del Tesoro lì al suo inizio, Via del Tesoro, è la strada che va a massa, dove ci sono regolarmente persone che vengono a passeggiare, a correre, in bicicletta, insomma. La strada dei vini e dei sapori sostanzialmente. La strada dei vini e dei sapori che viene tagliata da una strada dove devono passare dei camion gli ghiai. Poi taglia ancora anche la via Castellatino subito sotto lì, perché lì fa un angolo, chiude praticamente un triangolo e passa oltre, va a finire lì nella zona artigianale dove ci sarebbe un'altra rotonda che poi porta Via del Partigiano. Ora, detto tutto questo, questo che mi sembra già abbastanza pesante come cosa, perché nel momento in cui si dice di risparmiare il verde, di non... Flora, fauna, anche fauna, c'è una vecchia roba. Certo, insomma, si tagliano dei campi, ci sono tre piccoli corsi d'acqua che ovviamente sono secchi adesso, insomma, quando non piove, però quando arriva la bomba d'acqua possono creare anche dei disastri e quindi ovviamente lì dopo bisogna fare dei ponticelli, insomma, una serie di problemi. Non è indifferente, anche il costo che hanno previsto, hanno stanziato, adesso mi sembra sui tre milioni, che mi sembrano proprio buttati via, però credo che non basteranno, ecco, se dovessero fare quest'opera qui ci lavorerà molto di più. Allora, nel 2008 si costituì una specie di comitato. Quasi 900 firmatari, 800 e passa. Raccogliemmo quei tre, quattro, c'era Giorgetti, Giorgetti era uno vecchiazzanese che ci teneva molto e l'aveva presa molto a cuore. Insomma, nel giro di un mese, da gennaio a febbraio, noi raccogliemmo 850 firme, che non so adesso dove siano andate a finire, perché fu una raccolta così molto spontanea, con dei fogli lasciati nei negozi, lasciati così a passaparola. Però, insomma, erano persone che avevano firmato nome e cognome, indirizzo, e quindi che portammo in comune, insomma, le depositammo in comune. Ci resta anche una lettera al sindaco, io l'ho letta. Facciamo una lettera al sindaco, facciamo tutti i passaggi, insomma, un po' senza ottenere granché, perché appunto la giunta era in scadenza, e quindi c'erano già in programma le elezioni in cui dopo vinse Balsani. Interpellammo anche i candidati sindaci, sia Balsani sia Rondoni, e tutti e due ci dissero che avrebbero ascoltato i cittadini, eccetera, eccetera. Praticamente so che la cosa comunque era stata mandata in regione, per l'autorizzazione. Quando poi arrivò la giunta nuova di Balsani, si fece qualche assemblea, una infuocata abbastanza piena di persone, quindi anche piuttosto animata, in cui però alla fine si capì che era il momento in cui c'era stata la crisi, insomma, economica, e pare che insomma anche nei conti del bilancio comunale ci fosse un problema non indifferente, per cui tutto sommato spendere dei soldi per una cosa che, insomma, a cui i cittadini, almeno una buona parte dei cittadini era perplessa e contraria, la cosa decantò, si fermò lì e praticamente si pensava, almeno io, cioè non ci siamo più occupati della cosa, si pensava che fosse morta. E invece? E invece è tornata fuori, proprio, diciamo, nell'estate scorsa, perché credo scadessero i termini, non so, della concessione e in comune hanno avuto paura di dover pagare delle penali per mancata effettuazione di un lavoro che era stato programmato. Quindi adesso è sospesa la cosa? Quindi hanno deliberato la costruzione, quindi comunque è stata deliberata e quindi teoricamente dovrebbe poter partire, purtroppo, con la prossima giunta, naturalmente si vedrà cosa deciderà, per chi sarà il sindaco, come decideranno, però volevo arrivare a questo, quando noi facemmo tutta la nostra battaglia, il WWF ed i Verdi, allora, ci diedero una mano, nel senso che avevano escogitato un'alternativa che allora sembrava anche così un po' campata in aria, mi spiego meglio, adesso vi spiego il perché, ma che secondo me e secondo gli altri a cui stava a cuore questa vicenda potrebbe risolvere in gran parte la problematica. una via alternativa dal punto della cava che è subito vicino al fiume e in linea d'aria è a meno di un chilometro da via dell'Appennino, dalla parte opposta, all'altezza più o meno di Grisignano. Allora, siccome esiste già una sorta di strada sterrata e anche già un ponte sul fiume, lì si potrebbe fare un percorso che è di meno di un chilometro, penso con un impatto minimo tutto sommato perché è una sorta di strada, c'è già, quindi sarebbe da ovviamente rimettere a posto, forse anche il ponte sarà. Un tracciato, certo. E il vantaggio è che andrebbero i camion con questo tragitto, sbucherebbero in via dell'Appennino dove adesso arriva la tangenziale, cosa che non c'era allora, adesso arriva l'ultima rotonda della tangenziale sotto collina e si collega con via dell'Appennino. Quindi potrebbero allacciarsi. Quindi praticamente entrerebbero in via dell'Appennino e hanno 200 metri e poi hanno la tangenziale per andare a Magliano. Sarebbe la soluzione… Se devono andare a essere lavorati a Magliano, io credo che invece di far passare i camion, perché attenzione, l'altro punto grave che non ho detto è questo, i camion a questo punto, allora si pensava che uscivano fuori da Vecchiazzano e non passavano dentro Vecchiazzano. Adesso sì, passano da via del Partigiano, ma poi devono passare dal ponte che collega via dell'Appennino, che è sempre il trasatto, che è sempre e completamente, perché è l'unico ponte che porta all'ospedale, non solo, ma poi arrivando in via dell'Appennino dovrebbero girare verso, probabilmente, verso San Martino in strada, quindi anche lì via dell'Appennino sappiamo com'è, per poi andare o da via Monda o non so da quale strada andare verso Magliano. Però, insomma, mi sembra folla, ecco, mi sembra folla. Io credo che la giunta nuova ci debba ripensare bene, perché se è vero che si fanno i costi benefici per il TAV, un traforo a Lione, credo che si possano fare anche i costi benefici per una strada di questo tipo qui, che sicuramente dà del dissesto naturale, non credo che porti, cioè che rovina comunque l'inizio della collina e non so quale vantaggio ci sia per i cittadini. Adesso vediamo se si troverà un sindaco, perché vede che è abbastanza complicato, ogni giorno c'è un candidato, vabbè, se si troverà comunque… Un sindaco ci sarà, ci sono tanti candidati con cui vincerà. Sì, perché se no andiamo dal commissario. Quindi, voi comunque, sì, mi è stata fatta questa petizione a suo tempo, dieci anni fa, ma sento, perché stando a Vecchiazzano, sento che tutti quanti sono ancora attivi sotto questo aspetto, non si sono fermati. C'è stato un po', secondo me, molte persone l'hanno minimizzato quando hanno visto la notizia nel giornale, perché hanno pensato che si trattasse dell'anello della tangenziale, che fosse quello. Non è quello, purtroppo, è un'altra cosa e l'anello, siamo tutti d'accordo, quando lo faranno, quello sarà un grosso vantaggio, sicuramente, dopo per il traffico, eccetera. Però non stiamo parlando di quello. Certo, ma vedremo come… intanto aspettiamo appunto la nuova giunta e poi vediamo, dopo eventualmente, insomma, sì, in qualche modo si interverrà, ci ragioneranno queste inutili, non possiamo prevedere. Io speso che prevalga il buon senso. Il buon senso. Anche perché le cose, diciamo, è come stanno, Cazzano è diventata grande, è diventata grande, si allarga sempre di più. Non parlerei più di un quartiere, ma addirittura di un paese, di una mini città, perché c'è tutto e quindi bisogna, quindi abitata, eccetera, eccetera, da molta gente. Sì, poi c'è al di là l'ospedale, al di là della strada, quindi lì è diventato un polo importante. Assolutamente, assolutamente. E soprattutto la parte sopra, diciamo, la parte di via Tomba, di via del Tesoro, danno uno sfogo perché le strade si inerpicano così, molto dolcemente. No, ma è bello lì, molto bello. E di lì si vuole anche così il panorama della città, insomma. È molto, sì, è molto bello, cioè tu dal punto di vista ambientale. C'è ancora, ci sono ancora così, dei fiumiciattoli, dei ricchi, che hanno sicuramente un po' di biodiversità. Ci sono, sì, 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 passano caprioli, forse addirittura troppi, perché rovino un po'. Sì, sì, ogni tanto poi ne incontri qualcuno. Però ci sono molti uccelli, c'è una fauna che va tutelata anche quella, ecco, perché non possiamo distruggere tutto. Distruggere tutto. Dottore, lei abbiamo ancora 7-8 minuti, lei ha parlato, è stato relatore, c'è inquinamento e ambiente. Capisco che è un tema che non si può concludere e relazionare in 7-8 minuti, ma grossomodo, perché siamo in un momento in cui l'ambiente è diventato primario, è diventato importante, vediamo che questo nostro pianeta sta andando un po' in malora. velocemente, lei ha fatto, mi sembra, l'ho visto su YouTube, ha fatto un convegno, mi sembra qualcosa, stringendo proprio al massimo, sintetizzando, come siamo messi? Male? Ma siamo messi abbastanza male, nel senso che come in tutto il mondo, ovviamente abbiamo le conseguenze, cominciamo a sentire in maniera pesante le conseguenze di un inquinamento, di una antropizzazione, cioè di un effetto delle attività umane nel clima e nell'ambiente che sta diventando deleterio e al quale gli amministratori mondiali, non sto parlando di quelli locali o di quelli anche nazionali solo, ma insomma non lo stanno prendendo a cuore, non lo stanno capendo, cioè continuano a guardare i problemi dell'economia, eccetera. Diciamo, i messaggi che mi sento di dire, proprio stringendo al massimo, è che bisogna smettere, ovviamente è chiaro che non si può fare domattina, però bisogna cercare di arrivare a smettere di bruciare, bruciare i derivati del petrolio, bruciare carbone, bruciare, bruciare masse, bruciare rifiuti, bisogna smettere di bruciare perché quando si brucia si provocano e si emettono, si fanno diventare le sostanze che si bruciano delle sostanze tossiche e cancerogene. Questo è indubitabile e ormai, oltre a un'emissione di CO2 e di gas in atmosfera che sicuramente provocano gran parte del riscaldamento ambientale, dell'acidificazione conseguenziale. La CO2 che è passata oltre 400 parti per milione da tre anni non era mai successo nel mondo, se non forse, non so, nella caduta del meteorite che fece sparire i dinosauri, per capirci, ma se sono spariti i dinosauri ci dovremmo fare un pensiero anche noi. Quindi se l'anidride carbonica continua a crescere, acidifica il mare e se acidifica il mare, basta poco rispetto di pH più acido, la vita nel mare rischia di scomparire. Se scompare la vita del mare, anche noi rischiamo di brutto a quel punto, anche le nostre risorse vanno via. Lo scenario è apocalittico. Se veniamo nel nostro ambiente, cosa possiamo fare? Intanto io spezzo una lancia ovviamente per la raccolta differenziata, che so che in questo momento non ci riduce l'impatto dell'inceneritore, però se noi portiamo avanti con un po' di sacrificio di tutti noi, perché siamo costretti così a fare qualche selezione che prima non si faceva, però insomma è poca cosa rispetto a quello che può essere. e si potrà arrivare forse a un punto di dover mettere di fronte gli amministratori al fatto che non producendo più a Forlì tot materiale da bruciare, poi almeno uno dei due inceneritori si possa cominciare a pensare di chiudere. Questo è un obiettivo. Poi dopo c'è il problema del traffico, ce ne sono i problemi. L'ultimo problema veramente serio è quello anche dei pesticidi nell'ambiente. Pesticidi ed erbicidi, lì abbiamo fatto una battaglia anche come ordine dei medici e mi sembra che almeno l'impatto... Lei coordinava un comitato? Sì, io coordinò la commissione ambiente salute dell'ordine dei medici e lì abbiamo fatto azioni in cui anche il comune ci ha seguito per cercare di limitare, in parte ho visto che è calato l'uso soprattutto degli erbicidi, cioè spargere dei veleni per cavare l'erba dai fossi e nei campi è veramente una cosa che non si deve fare perché quegli erbicidi lì sono sicuramente tossici, quasi sicuramente cancerogeni e non è vero che si eliminano in poco tempo. Quelli vanno a finire nelle acque e le ultime, adesso che la regione Emilia-Romagna ha incominciato a monitorare la presenza del glifosate e del suo metabolita nell'acqua, nelle acque superficiali c'è, c'è, ce n'è in una quantità che non è tranquillizzante. Noi siamo tranquilli per le acque potabili perché per fortuna abbiamo ridracoli che ci porta l'acqua da una zona in cui dei veleni non ne vengono sversati, quindi sicuramente lì siamo in una bolla fortunata, ma le acque superficiali con cui poi si innaffiano gli orti, insomma con cui abbiamo a che fare, quelle non sono proprio tranquille. Ci torneremo dottore perché il tempo è scaduto, volevo parlare anche di questo fenomeno, ma la richiamerò se lei ci ritorna, questo qui che mi ha molto colpito, un fenomeno che è stato riscontrato di metalli nelle unghie di bambini mi sembra, zona nord-est mi sembra, no? Grosso modo. Adesso non c'è il tempo, però insomma ne parleremo. È uno scenario, non voglio dire da terra dei fuochi, però è uno scenario piuttosto pesante, potevamo immaginarlo. Ecco, già è abbastanza di sollievo il fatto che la raccolta differenziata che ha avuto delle reazioni da parte dei cittadini che forse non erano preparati, un pochettino nervose, ma adesso vedo che sta procedendo. Dottore, io per il momento la ringrazio, la ringrazio e mi permetto di dirle che la chiamerò più avanti, parliamo di questo fenomeno qui che non c'è più il tempo e poi seguiremo anche dal punto di vista ambientale, lei è un oncologo, endocrinologo, quindi meglio di lei chi può farlo, torneremo su questo argomento e lanceremo i gridi d'allarme. Grazie ancora per essere venuto, grazie per la sua attività e grazie a voi per l'attenzione.